In un precedente video, questo qua per l'esattezza, ho mostrato quello che era il mio portafoglio azionario, o meglio, il portafoglio che abbiamo costruito basandoci sui portafogli dei big player e andandoci a mettere un po' di nostro per cercare di partire con poco capitale e costruire nel tempo un bel capitale, una vera e propria challenge. Siamo partiti più o meno con un capitale da investire intorno al centinaio di euro mensile e via via stiamo andando ad alimentare nel tempo questo portafoglio qui. Quindi se ti sei perso quel video, battelo a riguardare, ti lascio qua sotto il link, lì c'è tutta la distribuzione del portafoglio. Ti lascio anche qua sotto un file Excel consultabile, visualizzabile online dove ci sono i portafogli che stiamo seguendo, aggiornati con gli ultimi 3DCF e soprattutto il nostro portafoglio aggiornati con gli ultimi acquisti, vendite e così via. Andiamo dunque a vedere come è reso nel mese di agosto e luglio. Allora il mese di agosto è stato un mese relativamente pessimo per il mercato. Abbiamo iniziato agosto e boom c'è stato subito immediatamente un calo nei primi 2-3 giorni di agosto di circa un 7%, quindi il portafoglio è andato a un meno 7%, penso sia stato anche più alto il calo sul mercato in generale, però noi abbiamo relativamente tenuto botta. Poi lungo agosto siamo tornati sostanzialmente in profitto di pochissimo, però diciamo agosto attualmente siamo a un meno 0-17%, quindi è stato un po' un mese sofferto. Il mese precedente mettiamo un annuale così da avere un'idea, eccolo qua, il mese precedente che è stato luglio, che è partito qui, quindi da qua fino poi ad agosto, come vediamo è stato un mese relativamente up. Abbiamo fatto tra l'altro il massimo storico a un 3-23%, un più 3-23%, poi siamo tornati giù, attualmente comunque come vediamo abbiamo recuperato quel calo ampiamente, siamo tornati di nuovo ai livelli dei primi di agosto, con un valore attualmente di un più 1,28%. Il portafoglio come ho detto si compone principalmente di una strategia di pack di accumulo, quindi ho creato dei piani d'accumulo che ogni mese vanno ad accumularmi le azioni che ho inserito nel portafoglio. Adesso andremo a vedere il peso di ciascuna, lo sto piano piano riequilibrando per andare a mimare quello che è il mio portafoglio in realtà, però ecco volevo appunto creare una challenge dove andiamo a utilizzare poco capitale e cerchiamo nel tempo, porterò avanti questa serie penso per 5-6 anni più o meno, mi sono dato questo tempo qui, per vedere effettivamente come è migliorato e come è aumentata la performance, anche partendo ripeto da un portafoglio da 100 euro, 120-130 euro al mese. Qui stiamo operando su Trade Republic, qua sotto ti lascio il link, una banca tedesca che ci permette di acquistare azioni, creare piani d'accumulo a zero, quindi io posso comprare sostanzialmente azioni pagando un euro di commissione, vendendo un euro di commissione indipendentemente da quanto sto comprando, se compro 10.000 euro pago sempre un euro, se compro 2 euro pago sempre un euro di commissione. Ma i piani d'accumulo sono gratuiti, quindi noi stiamo utilizzando i piani d'accumulo, io sono prevalentemente per fare un DCA nel tempo, quindi come fosse un fondo pensione e sto posizionando qua all'interno del mio fondo pensione ogni mese in particolare 100-130 dollari e sto andando avanti in questo modo. Vediamo poi nei 5-6 anni come sarà andata. Una cosa molto interessante di Trade Republic è che ci permette di avere degli interessi sulla liquidità che andiamo a parcheggiare, quindi rispetto alle banche magari tradizionali che attualmente non pagano nulla, anzi sono dei costi perché tante volte il conto costa, il conto di Trade Republic è gratuito. I tuoi fondi liquidi, quindi gli euro che depositi sono garantiti fino a 100.000 euro come qualsiasi banca dal Fondo Monetario Europeo, quello che tu invece hai investito in azione ovviamente non è garantito perché le azioni salgono e scendono così come non lo farà nessun'altra banca. È una banca a tutti gli effetti, regolata in Germania dalla Bafin, quindi stiamo parlando di un ente estremamente preciso, la banca in questione Trade Republic è estremamente precisa in quello che fanno, non mi ha avuto problemi, l'assistenza clienti c'è, molti dicono eh non c'è, non rispondono, io due volte ho chiesto due cose, mi hanno sempre risposto, quindi top. App molto comoda da utilizzare, c'è anche l'app da cellulare, commissioni gratuite, hanno anche la carta se vuoi spendere i soldi che hai caricato sulla piattaforma, nel frattempo quello che hai caricato ti genera interessi, quindi insomma cazzo più di così cosa vuoi, c'è veramente tutto tutto tutto, quindi se ancora non ce l'hai, se è rititubante, non so se farlo o non farlo, qua sotto ti lascio il link. Tornando a noi, non c'è tanto da dire, attualmente abbiamo recuperato, siamo di nuovo su, quindi ottimo, da app è molto più semplice da utilizzare, vediamo attualmente com'è suddiviso il portafoglio, un 16,45% in ETF, sto via via aumentando un po' l'esposizione, e un 83% in azioni singole. Rispetto lo scorso mese ho aggiunto qualche ETF, ho sistemato e sto riequilibrando in modo da averli più o meno tutti uguali, SP500, Core Emerging Markets e in particolare il Word che ho introdotto lo scorso mese proprio, quindi sto portando su questo in modo da avere SP500, Word e Emerging Markets sullo stesso livello e poi faccio lo stesso anche sul resto. Come ETF ho aggiunto nuovi il Physical Gold, quindi quello sull'oro, il Developed Markets Properties, quindi questo qui è una sorta di rate sul mercato immobiliare, lo Stocks 600 Insurance sulle assicurazioni, poi sto scaricando, ma sto aspettando che tornino un po' su per scaricarli questi due, perché ho sostituito questi con l'Emerging Markets, è inutile tenere questi qua mirati, sono andato a spostarmi più sull'Emerging Markets, qui non li sto accumulando attualmente, però so che la Cina crescerà molto e quindi questo qua mi performerà, e lo stesso il Brasile. Global Water, questo per andare a colpire le società coinvolte nella distribuzione, comunque nell'acqua, nel settore dell'acqua, negli Stati Uniti, anche questo lo sto accumulando a mesi alterni, non sempre, però grossomodo il più del cambio sono stati questi qua che sono andato a inserire e il Word, quindi questi qua sono gli ultimi che ho inserito e quelli che come vedi hanno anche un peso minore, perché sono appena partito con gli accumuli, questo è stato il cambio lato ETF, il resto è più o meno uguale, ho anche un diversified commodity swap per andare a colpire appunto le commodities, visto che in tempi duri le commodities tendono ad andare bene, quindi sto cercando con i miei ETF di andare a mediare un po' eventuali cali e coprire le posizioni invece nel mercato azionario. Mercato azionario attualmente ho ancora una prevalenza su Apple, anche se la sto riducendo parecchio, siamo a un 9,31%, poi c'è un 4% Coca-Cola, 3% Amazon, 2% Walt Disney e così via, cercherò di portare tutte più o meno intorno a un 5-4%, una roba del genere un 3%, quindi andare a riequilibrarle. La Disney la andrò probabilmente a scaricare a breve, ho sentito delle informazioni riguardo intelligenze artificiali, motivo per cui ce l'ho in portafoglio, ma andrò probabilmente a scaricarla presto. Poi continuo a mantenere Alibaba, tutte queste qui, ce le ho ancora qui. Ho rafforzato un pochino la posizione su Occidental Petroleum, visto che era un po' scontato e che mi interessa, comunque parliamo di petrolio, parliamo di un settore interessante. Non ho aggiunto praticamente nulla a livello azionario, mi sembra non aver aggiunto nulla se non sono andato a rafforzare qualche posizione qua e là, sempre tramite il piano d'accumulo. Però prevalentemente mi sono tenuto invariato, ecco il più della variazione l'ho avuta negli ETF che sto spingendo un po' di più per portare sul bilancio, quindi spostarlo da un 16 almeno a un 25% del portafoglio, così una diversificazione molto più ampia e l'azionario, quindi ridurlo un pochino, è un 60-40 da valutare. Cercherò di tenermi sull'azionario un 60-70% e il resto ETF il più distribuiti possibili in modo da andare a mediare bene i settori e i paesi. Questo è tutto, prevalentemente mi sto muovendo così, se vogliamo vedere anche in termini di rendimento come sta andando il mercato, allora vado a selezionarlo qui. A livello azioni siamo un più 17% su Tesla, un più 16% su Barrick Gold, Starbucks 13,95, Nu un 13,76, Paypal 13,16, Walmart 12,25, Apple 10% e così via. Molto interessante mi ha recuperato Shopify, Shopify mi ha fatto un bel movimento, è attualmente in profitto, ricordo è stato praticamente dall'inizio, sempre in perdita di un 20%, ha toccato anche addirittura un 30% se non sbaglio. Ora è tornato su bello pesante, intanto ho accumulato benissimo, quindi molto felice di questi acquisti qua. I peggiori invece rimangono, scorrendo un po' in giù, Coinbase, Warrior Met Call attualmente, Walt Disney, Lam Research, Console Energy, Occidental Petroleum e Applied Materials. Diciamo questi qua sono quelle che attualmente stanno performando male. Sto comunque accumulando perché sono tutti settori interessanti, a parte Coinbase perché tanto ho un'esposizione già a cripto, quindi Coinbase l'avevo presa giusto per il pump per speculare nel breve termine, quindi questa qui non è una roba che starà a lungo nel mio portafoglio. Negli ETF vediamo che l'ETF Brasil è a un 5,99%, lo Stoxx 600 348, l'SP 500 un 2,06%, l'MSC World 1,25%, il Global Water 0,51%, il Developed Markets Properties, quindi immobiliare 0,27%, mentre tutti gli altri sono un po' in perdita. Quello più imperito di tutti è questo qua, il China, perché la Cina non se la sta passando bene in termini di azioni, se non altro ci stanno pompando l'oro che è una meraviglia, quindi va benissimo e devo dire che questa è un po' la situazione attuale, questo qui sto aspettando, torni un po' su, tanto è una roba di lungo termine e attendo. Il Diversified Commodity Swap ancora non ha dato modo di mostrarci come va, anche perché siamo ancora in una situazione buona, abbiamo visto le azioni mediamente un più 17%, 18%, anche se c'è stato lo scorso mese un po' di dump, però le azioni comunque se la stanno passando bene, l'SP 500 è bello sano, quindi ci sta che non siano proprio così spinte, è in tempi di crisi che quel tipo di soluzioni, quindi le materie prime, diventano care, è lì che poi si gioca la partita. Questa è un pochino la panoramica generale di come sta andando il tutto, parallelamente su questo portafoglio circa 637 dollari investiti, di liquidità invece ne abbiamo 1300 che generano quel 375 annualizzato, comunque tengo una liquidità da parte. Ecco una cosa importante, quando vado a investire sui mercati mi cerco sempre di tenere una percentuale almeno di liquidità del portafoglio, altro punto importante qua io chiederei e chiedo magari a Trade Republic, se vedranno questo video, di andare a inserire anche la liquidità che abbiamo, quindi avere un portafoglio globale, un'idea globale del portafoglio e non solo quello investito, perché così riesco a capire, riusciamo a capire bene come ci stiamo muovendo e mi è più comodo per me per fare i video. Io cerco di tenere sempre un 40-50% di liquidità nel portafoglio, quindi liquidi che mi generano interessi. Poi la restante parte la vado a investire, in questo caso per ogni segmento, quindi cripto, 40-50% liquidità con interessi, il restante investito. Azioni, 40-50% liquidità, il resto investito. E vado avanti così, per ogni cosa che faccio mi tengo sempre una disponibilità liquida di un 40-50% che mi genera interessi. Perché? Perché io non voglio che si svalutino e basta i soldi, perché lasciarli fermi significa svalutarli. Allora io voglio degli interessi per così almeno combatto un minimo l'inflazione. D'altra parte mi tengo liquidità pronta nel momento in cui ci siano cini neri o nel momento in cui il mercato vada giù. Il 2025 mi aspetto che sia un mercato relativamente ribassista, almeno in tutta la prima parte, anche sull'azionario perché siamo in recessione, tra virgolette. Mi aspetto questo, poi magari non succederà, chi se ne frega, tanto sono esposto ai miei piani di accumulo, sto accumulando. Questo è un portafoglio che porto avanti per 5-6 anni, 10 anni, 20 anni, vedremo man mano che andiamo avanti. Quindi me lo tengo lì, non ho alcun problema. Se c'è da scaricare qualche posizione e accumularne altre lo farò, però tendenzialmente è un portafoglio più long term. In quest'ottica il mio obiettivo è accumulare il più possibile. Quindi mi tengo questa liquidità qui per andare ad accumulare. Nelle fasi di mercato critiche, quindi quando il mercato va giù andrò ad aumentare quanto sto spendendo per l'acquisto, in modo da avere più posizioni per quando poi il mercato tornerà su. Viceversa, quando il mercato è su manterrò una percentuale di liquidità più alta. Quindi tendenzialmente in questa fase, che i mercati sono belli alti, vado con i piedi di piombo tenendomi un 40-50% di liquidità almeno. Quando i mercati poi iniziano ad abbassarsi, cosa faccio? Prendo quella liquidità, la utilizzo per comprare e di conseguenza mi sbilancerò, magari avrò più investito e meno fuori dal mercato in termini di liquidità. Quindi magari arriverà un 40-30% e il 70% investito, poi i prezzi saliranno nuovamente, andrò a fare profitti, salirà tutto. Fantastico, bellissimo, vado a ribilanciare e riportarmi una liquidità di nuovo un 40-50% e continuo a giocare in questo modo. Parallellamente continuo a prendere interessi sulla liquidità. Questa è la mia strategia personale, non vuol dire che sia quella che dovrai utilizzare anche tu, anzi scegli, creati una tua strategia. Io qua però volevo portarti un aggiornamento di quella che è la situazione. Fammi sapere come sta andando a te qua sotto nei commenti, ti ricordo ti lascio il link di Trade Republic se ancora non lo stai utilizzando per utilizzarlo, lo trovi qua sotto. Utilizzando il codice che ti ho lasciato qui avrai anche un'azione gratuita, se segui di step appena apri l'applicazione ti mostra il bonus come ottenerlo. Iscriviti al canale per rimanere aggiornato su questo portafoglio che abbiamo costruito, come va, e soprattutto per rimanere aggiornato sul mercato globale. Perché qua sul canale avrai tante strategie, tutorial, pratici, analisi, tutto quello che ti serve sapere sia nel mondo tradizionale sia nel mondo tech di bitcoin. Quindi avrai tutto, 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 tutto quello che ti serve gratis, ti costa solo un clic sul pulsante iscriviti. Quindi clicca questo pulsante iscriviti, qua c'è un iconcino dovresti trovare in basso qui, cliccala e ti iscriverai al canale. Ti ringrazio per essere stato qui con me, un abbraccio e ci vediamo nel prossimo video. Grazie